Ho deciso di mettermi a dieta, intendo dire la dieta digitale, che ossia parliamo di digital minimalism, ossia minimalismo digitale. Che cosa vuol dire? A differenza del digital detox, ossia disintossicazione letteralmente digitale, che prevede il fatto di stare tipo un giorno, due giorni completamente senza digitale per operare una sorta di disintossicazione, il minimalismo digitale affronta la questione da un punto di vista differente, secondo me più sensato nel lungo termine, ossia ridurre e per quanto possibile anche annullare l'invadenza del digitale nelle nostre vite. Quindi non si tratta di prevedere uno o due giorni ogni tre quattro mesi, ma prevede di proprio andare a prendere, ad analizzare la propria vita digitale e da lì capire che cosa si può ridurre, che cosa è possibile tagliare, che cosa è possibile appunto eliminare in alcuni casi, in modo da tenere solo ed esclusivamente quell'aspetto del digitale che veramente ci serve, ossia che veramente potenzia le nostre vite. Non vi dico oltre perché sarà un bel percorso da fare insieme, voi continuate a seguirmi su questo canale e così man mano insieme ad altri contenuti vedremo anche questo